E che dire, l'Inter vince anche stasera, fa una grande partita, una buona partita Tiene tenacia, voglia ai giocatori come dicevo sempre negli scorsi video ragazzi Se volete andarveli a vedere mi fate un grande piacere Così continuiamo a salire con le iscrizioni e grazie comunque agli iscritti L'Inter fa una grande partita di voglia, di tenacia, di grinta, di cuore Con un San Siro che spingeva Ho visto una grande fase difensiva dell'Inter Ho visto, c'è la Noglu, i Mkhitaryan oggi hanno fatto tanta tanta fatica C'è la Noglu ha sbagliato veramente tantissimi palloni Se non erano 18-19 palloni, è sbagliato Mkhitaryan ha fatto delle corse, sì ma non erano le solite corse pulite Con un pallone in progressione, con la palla in progressione verso la porta Anche dei movimenti del corpo secondo me i due giocatori Sia l'Armeno che il Turc erano abbastanza in difficoltà Proprio a livello di polmone, di fiato, di ossigeno Perché le stanno giocando veramente tutte E le hanno fatte veramente in una maniera Extraordinaria Come disse Jose Altafini Ragazzi Poi là davanti è anche Turams Che è poi uscito e si è fatto male Lautaro ha sbagliato qualcosina Entrata Arnautovic Che ha sbagliato dei gol ragazzi clamorosi Però poi è riuscito a farsi perdonare con il gol Dopo un tiro di Lautaro Martínez Con un errore incredibile di Samuelino Quindi Arnautovic segna dopo aver sbagliato quel gol Comunque l'Inter ragazzi alla fine vince Alla fine ragazzi Noi possiamo dire quello che vogliamo Ovviamente la milanista Devo dire la verità Non è che mi interessava tanto la partita Poi ovviamente se perdeva l'Inter Si faceva lo sfoto Ma chi se ne frega Rimandendo oggettivo Rimandendo comunque amante del calcio Dico che l'Inter è una grande squadra E sta mettendo veramente in difficoltà tutte In questo momento Anche l'Atletico Madrid Che è comunque una signora squadra Anche se non gioca un calcio fantascientifico Ma è una squadra che è arrivata più volte In finale di Champions Comunque fa sempre bene nelle competizioni europee Allenatore Simeone Ha dei giocatori fantastici Come Griezmann, Morata, Samuelino Che diventerà molto forte C'è Koke, c'è Saul C'è un ritrovato Witzel in media In difesa Quindi c'ha giocatori importanti L'Inter però ha fatto una partita Con i controcoglioni ragazzi Ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Complimenti alla squadra Nell'Azzurra Complimenti da Milanista Dove essere sincero Veramente bravi Ottimo Primo Primo Tempo Diciamo Della partita contro l'Atletico Ragazzi Non si può veramente dire nulla Lato Atletico Madrid Una squadra molto confusa Abbiamo visto comunque Un solito Oblak Eccezionale È molto forte È un promettentissimo portiere Cioè Promettentissimo Che cappella enorme Che ho detto Un portiere fenomenale Già da decenni È dal 2014 Che è un mostro Il sloveno Grandissimo Abita qua vicino Cioè Viene da qua vicino Vicino a casa mia Veramente forte Oblak Che si dimostra Completamente Un portiere fuori Della norma Fuori dalla logica mondiale A livello di Mignon Courtois Eccetera eccetera La difesa oggi È fatto un pochino Di fatica Tranne Witzel Savic è entrato Al secondo tempo Subito rude Subito arrabbiato Come ai tempi Della Fiorentina È un giocatore Che non mi piace molto Però E di fatto Ha fatto una partita Orribile Ma non solo perché Non mi piace Perché è un giocatore Secondo me mediocre Ragazzi Cioè secondo me Nella vita reale È più forte Nastasic Era più forte Era più completo Era più bravo Anche con i piedi Di impostare Quindi vabbè Comunque Tra i due Scelgo sempre Nastasic Comunque ragazzi Il centrocampo Dell'Atletico Ha fatto buon filtro Ha fatto qualcosina Secondo me Nota Da leggenda Di Griezmann Che è un giocatore Fantastico ragazzi Fantastico Un giocatore Che potrebbe giocare In tutte le squadre Del pianeta Fortissimo Poi fa filtro Corre Inventa Verticalizza Si fa vedere In attacco Si fa vedere In difesa Viene a raccordare Va dietro la punta Fa la mezzapunta Fa l'ala Viene a rimorchio Cioè ragazzi Ma di cosa stiamo parlando Un giocatore Fantastico Griezmann Ottima prova Di Griezmann Iorent Iorent ha giocato Abbastanza bene Samuelino Secondo me Il ragazzo Era molto promettente Il ragazzo Era molto ispirato Cosa possiamo dire Morata Ha fatto quel colpo Di testa fuori Dove De Vrij E l'ha perso Un attimino Ma comunque Con un movimento L'ha mandato In terzo tempo E è riuscito A sbagliare E quindi Ragazzi Questo è diciamo L'analisi della partita Una partita Che non ha dato Diciamo Delle grosse emozioni Io ero in live Non è che mi sono divertito Tantissimo Uno Perché ovviamente Ti fanno un'altra squadra Non è che sono Super emozionato Però poteva essere Una partita Che dava più emozioni Proprio sul lato Proprio Delle due squadre Mi sembrava molto Una squadra Atletico Madrid Che aspetta Proprio il ritorno Che aspettava Voleva lo 0-0 Aspettava il ritorno Per giocarsela Al Wanda Metropolitano In una maniera un po' più Cattiva Un po' più coerente Con la sua storia No? Quindi Aggressione Quindi pressing Quindi contro piedi letali Quindi giocare al Wanda Metropolitano Che è uno stadio Bello caloroso Un po' come il Vicente Calderon No? Se vi ricordate Atletico Madrid Giocava in una tana Era proprio un Quasi come il Mestaia No? Uno stadio che ti avvolgeva Che comunque infuocato Che ti portava Ti portava veramente Dello spirito Per riuscire a vincere la partita Oggi un Atletico Madrid Normale Con delle buonissime individualità Con un fenomeno come Griezmann Però abbiamo visto poco Poco secondo me Non è che abbia creato tantissimo Due tiri di lino Colpo di testa di Morata E basta Insomma Diciamo che anche oggi Notti tranquille Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Grazie all'iscrizione Che abbiamo fatto Nell'ultima live Un bacione a tutti Spero che il video Ragazzi Che ho portato stasera Anche E gli ultimi contenuti Che vi ho portato Vi piacciono Quindi un bacione Dal Footwork Secondo Cree E ci sentiamo domani Ciao ragazzi Ciao ragazzi